Ciao a tutti da Luca Volpe, sono qui per darvi una notizia importante. Sta per iniziare, non ci posso credere. Un programma che vedrà giovani maghi, prestigiatori di talento, darsi battaglia a colpi di bacchetta magica. Un programma ricco di sorprese, ospiti e ovviamente tanta magia. Se sei un prestigiatore, un illusionista o un mentalista e vuoi partecipare alle selezioni, invia un'e-mail a questo indirizzo e così magari il vincitore potresti essere tu. Ti aspetto.